romina carrisi si fa vedere nella sua abitazione a roma a trastevere con il figlio nato da due settimane nel salone di casa seduta sul divano tiene tra le braccia il piccolo nella tenera foto in bianco e nero condivisa ci sono accanto a lei mamma romina power e la sorella 38 n christel it takes a village le donne della mia vita scrive la 36 n tagga il compagno stefano rastelli il regista in esterna rai 53 n in questi giorni è impegnato a sanremo ma da lontano tiene d'occhio la compagna il suo terzo figlio dopo emma e lola le due ragazze avute dall'ex moglie per lui si tratta del primo maschietto stefano sa che romina può contare sull'aiuto della madre e di christel arrivata dalla croazia sposata dal 3 settembre 2016 con l'imprenditore cileno croato deivor lukeisic e madre di kate iron 5 anni cassia ilenia 4 e rio in s 2 non ha esitato a lasciare i tre figli per stare accanto a romina e al nipotino per un po axel lupo è venuto al mondo il 24 gennaio scorso alle 22,39 dopo ben 14 ore di travaglio tutto è andato bene e ora romina junior si gode il figlioletto i paparazzi sono sempre alle sue costole diva e donna la mette sulla cover del giornale col bambino lei non è molto contenta di tutta questa attenzione mediatica sulla sua maternità preferisce la privacy e le dolci mura domestiche godendo del quotidiano insieme al bimbo e ai suoi affetti più cari quando il bebè è nato postando una foto in cui ha immortalato il mento del piccolino ha scritto quel mento lo contemplo da ore cercando risposte a domande mai pronunciate benvenuto amore axel lupo i nostri cuori sono pieni